Ce l'hai una? Ce l'ha un'altra? Allora, si scrive i buchi? Sono uno scheletro. Sono uno scheletro. Uno scheletro. E si producono anche altri buchi da seta. Questi buchi quando scheriggiano sono una specie di allone barriera così grande e cagano. Cagano. La merda si riconosce ad esempio la mitosi o meiosi. Una delle due si riproducono quindi tanta merda, tanta merda, tanta merda un brucco da seta. Un brucco da seta. Un brucco da seta. Un brucco da selva. Da... Un brucco da seta. È stata così. Diventa una farcalla. Una bella falena. Un lombericone. 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 Un lombericone.